Non c'è da dire, c'è da fare. Alcun diritto previdenziale, alcun diritto di prepensionamento. Questa è la nostra realtà, avere difficoltà ad andare a mangiare una pizza perché non ci sono spazi adeguati. Così come il male arriva all'improvviso, magari arriva anche bene. Siamo il popolo voa voa, della sofferenza facciamo bellezza, della dignità a missione. La verità ci rende liberi. Buonasera dal telegiornale della Toscana. La nostra copertina di Jacopo Cecconi è montata da Andrea Pieri e dedicata ai bambini Farfalla e al secondo compleanno dell'associazione Voa Voa che riunisce i genitori di figli con malattie degenerative. Con loro il cantante NEC per sostenere la richiesta al governo di una legge per aiutare chi deve occuparsi di un invalido 24 ore su 24. Ne parleremo più tardi. Torniamo alla nostra storia di apertura. Ha compiuto due anni l'associazione Voa Voa fondata dai genitori della piccola Sofia che ha una grave e rara malattia, la leucodistrofia metacromatica. Dalla festa di Sesto Fiorentino arriva la richiesta di una legge per tutelare chi deve occuparsi a tempo pieno di una persona gravemente disabile. C'era anche il cantante NEC testimonial dell'associazione Jacopo Cecconi. Quello che non accade in anni accade in un secondo. È successo nel male e chissà che un giorno non succeda nel bene con una qualche scoperta scientifica che possa migliorare le condizioni di vita dei nostri bambini e allontanare quel momento di dolore che ci aspetta. La solidarietà è molto mediatica. Aurora ha avuto delle crisi per la strada e non si è fermato nessuno. Vivono così. I genitori di Voa Voa, l'associazione che ora compie due anni, ha ridotto almeno il senso di isolamento. E insieme si può lottare meglio per ottenere risultati concreti. L'Italia è l'unico paese in Europa che non ha riconosciuto la figura del caregiver, perché è una persona che dà assistenza 24 ore al giorno per tutta una vita del malato. Alla festa nella villa Gerini di Sesto Fiorentino è arrivato anche NEC, socio fondatore e attivo sostenitore. Il contatto umano credo che sia il miglior modo per lenire certi pesi. Nell'affetto di tante persone è più facile anche guardare al futuro. Crediamo sia un regalo che ha voluto farci proprio la nostra bambina Sofia, perché l'abbiamo scoperto proprio pochi giorni prima che Sofia mancasse, e quindi non vediamo l'ora di abbracciare questo bambino.